musica 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 c'è quando la scappavi musica ecco vedi che nozzo che nozzo stavus lo stesso insomma sono il suo via tra poco stai chiamato buongiorno a 20 minuti il suo snorso di caldo fuori stasso mi mi c non sono penso adesso possiamo risalire ho questo presentimento pago però comunque sempre ah che una solita storia ma si bellissimo poi ci hanno scritto quanti più fail eeeh 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 che hai tutti stiratti è una prega un cazzo si ah l'ha visto prima ce l'avamo solo per ah rega allora ecco bisogna fare che bisogna fare del gioco bisogna prendere tutti questi pezzi da quello forse e noi pure l'ora che ora si accamba e c'è muoio adesso poi l'osso non abbiamo però non so magari se se lo mette da solo fino a che penso poi si si comporrà anche tutto il disegno questo qua e finirà il gioco penso ai marci del marivà ecco mamma questi sono disegni più tedeschi e tantissimi ok vai direttamente per l'aria no quanto bisogna fare per forza sicuro faccio pure la proposta e c'è stato qualcuno dietro per la cosa più più brutta che possa capitare come ha chiuso insomma chi oh oddio queste cose nei supporto del giuro no vediamo 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 che è il famoso che se l'avano in ventana se l'avano in ventana se l'avano in ventana no no ah si va oddio mamma mia che caga ecco il mostro va già sta arrivando troppo facile il suo gioco non no no oh ma che fa è tipo invisibile cioè fa tipo a scatti non so se è un bug non pensi sia un bug noi aspettiamo che fa tutti i giri suoi indietro non ci potremmo mai tornare alla vita va e vedi e va un po' di cattiveria niente e andai prima dove eri vado si così se giriamo si troviamo ma porca trovo vado vado dritto vado dritto ma proprio obbiatamente ma invece no sembra di poter dire no io non mi muovo come giuro cioè raga per me vuoi finire qua l'episodio cioè no non ci sta più e tocca a nasce ma come ci andiamo cioè con quale senso logico andiamo era il cane questo raga oh for fuck's sake could someone shut up that damn dog penso intanto mo mo non ci sta più si chiama sto gioco sta manda incontrativa che piani e io posso dire cioè ve lo sto proprio dicendo chiaro e tondo astrosi astrosi ahhh 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 finalmente raga un po' di un po' di adrenalina ma penso che sto qui è l'unica cosa che potevamo fare di che? e beh ok ci siamo risvegliati da un'altra parte eeeh sto posto qua non ci siamo mai andati o c'è su non mi avevo pensato una nerdata così poi una nerdata su sto gioco non avevo mai fatto regà un gioco del genere oddio forse beh questa dubito si girerei a destra si ma no aspetta andiamo un po' qua se ne si leggiamo tutte le volte tanto ormai tanto ormai non erano spediti cioè chi è? chi era quella? mortacci tu apriamo la porta tocca capire poi la trama regà si noi ci siamo proprio a caso perchè ecco regalo sacchiotti ok dico i atti che palpe dunque dico che dopo un po' che ci gioca ci giocate l'ansia diminuisce perchè comunque la fine è diventa un po' monotona situazione certo è comunque ansioso però un po' che apici una dica ti giuro non sento niente la senti? no mo si no non c'è possibile che c'è quella dica partirella mussolini? no no questo è l'altro ma la tipa che piange noi la dobbiamo evitare chiaramente perchè primo chi sei? chi ti autorizza? a piangere così ma chi sei? ma chi ti credi ds? si è si può essere così non lo sanno ti sti libri per te sto ci ha fatto una guerra contro libri ma no rega sempre la stessa stanza no rega no dai sempre la stessa stanza torna indietro torna indietro che cazzo prendi ad un secondo no? ma se ma per curare c'è così va so cos'è un quadrato cioè noi stiamo girando si no qua non c'è niente si dire chiaramente chiaro il tuo c'è niente c'è niente c'è niente c'è niente non ci sono anche i candele ecco morta 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 che cazzo sei chi è mo no no oddio che fa tutto così tutte di oh e fa fa culo però oh madonna ecco adesso l'ansia mi sta a venire adesso l'ansia si adesso l'ansia ce l'ho cioè noi stiamo messi come lui alla fine perchè non riusciamo a capire quello che sta a succedere noi se ne andiamo cioè non è che c'avemo una storia c'avemo qualcosa no no infatti perchè poi vieni tutto in inglese poi vabbè non è che dice niente secondo me no cioè dalla storia alla fine si vabbè non puoi capire quello che dice però ecco non è che ha detto qualcosa sulla storia ecco sta al senzetto del bambino è il bambino ecco che cazzo che cazzo tocca a far qualcosa qua ragazzi cosa sta succedendo eh vai la va che ti devo dir aspetta no assicuro che muo esce qualcuno raga perchè giriamo con la telecamera muo ecco muo esce qualcuno qua si sentono dei rumori tutte porte prepariamo se a saltare pure il trenino è partito tutta una porta è diventata ci stanno più e così la grande quello che salta da solo perfetto si epico geniale si bel gioco bravi bravi rega mamma mia rega che cazzo è quello sanno sbattere forte sanno fatte tutto un casino immenso guarda guarda quello che sta a fare eh che tanto ne so sono tutti felici non so più felici no no sono un po' con cazzate no 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 la patroia che cos'è no star spesa va più per un posto che sta diventando nera oggi sono un mio rega che è poco strano che è tutto il letto il mondo è il suo palmo apprezzare la prossima azzurro preparamose la cosa è che va madonna c'è stata via che sarà via e un viaggio paranormale favore a zonfano sicuro perchè si è andato via oddio oddio non so non so come adesso ma questa balletta che mi inizia gioco discusi il fatto è la prima volta di rosa per terra l'articolo l'articolo è un po' di cento ma io non voglio più sapere niente andiamo via per favore tratta questo è il terzo pezzo mortacci 2 chiudi chiudi sta merda vaffanculo che è? vaffanculo rega no non è scusa apri apri fai romo se morimo morimo non è che morimo torniamo tipo indietro non lo so rega non c'è una morte qua però ritorni in altri quando qualcuno beh io l'apro così che c'è l'aperto tiramo a destra una macchina cattive non così rega sempre peggio sta stanza hai mai sentito parlare del fiume ma no ma c'è l'apro eh beh i veri si sta componendo sta merda e intanto siamo a prende pezzi siamo a metà siamo a metà dell'opera questo è l'osso infatti no cioè i due ce ne mancano tre eh no perchè l'abbiamo già la coda di cavallo la coda di cavallo però la devi mettere eh la mette sempre dopo quello dopo la mette dopo oddio io direi di stopparci sta di metà venito guarda 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 si si sta formando chi sta formando poi non so non vuole sapere eh ma ne era così prima stiamo ragazzi ma a metà allora ragazzuoli per oggi il video finisce qui abbiamo giocato è veramente una cosa pazzesca tipo un'oretta e forse più non so se siamo anche a metà del gioco eh perchè da quello che abbiamo capito bisogna prendere dei pezzi e poi comporre questo dipinto qua che vedete proprio eh esatto i pezzi sono questi i pezzi sono questi e noi siamo arrivati al terzo uno due tre proprio quello che vedete tra l'altro il quarto l'abbiamo già preso ma comunque dobbiamo fare altri tre step e diciamo che non è che sia eh molto veloce diciamo non è proprio un vero gioco di paura ma è un po' psicologico come è è un po' strano pure ragazzi perchè c'è questa macchina minchia perchè ne abbiamo letto si adesso ci andremo anche a leggere la storia magari andate a leggere eh così capite pure voi o se no ve la diciamo la prossima volta ragazzi sicuramente io continueremo il gioco in qualche modo perchè non è così lungo non penso sia lunghissimo raga però comunque già abbiamo fatto parecchio tempo di gioco al massimo eh non so se poi ve lo spezzeremo questa parte qua perchè un'ora raga anche se lo editiamo in due episodi anche in tre vediamo un po' dopo che avrò editato il video vabbè ragazzi se il video vi è piaciuto volete far continuare questa serie perchè sta molto molto interessante lasciate un pollicione lasciate un bel like lasciate un bel like lasciate anche un commento magari qualche commento qualche idea che ci potete suggerire suggerimento qualche cosa lascerò anche la pagina del link della pagina facebook in descrizione ci vediamo alla prossima si besta grande e vi saluta e anche grinta bella 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 Grazie.